Kailas è un'azienda che è stata fondata nel 2003, riconosciuta come quella più all'avanguardia e più tecnologica nel mondo dell'outdoor asiatico. Da qualche anno la troviamo in Europa e anche in Italia. Proprio quest'anno c'è il primo team italiano, il Fuga Team Italia, i cui atleti saranno presenti ai nastri di partenza nel mese di settembre delle gare del Tor X. In occasione del Tor X sarà consegnato ad ogni finisher della gara da 330 km e della gara da 450 km, il nuovo zaino Fuga R4 da 8 litri che ho la fortuna di indossare. Le caratteristiche di questo zaino? Beh sicuramente la leggerezza e il sistema di bloccaggio anteriore con l'ADS, vedete questi cordini sono cordini di chiusura altamente resistenti, in grado di sopportare addirittura 75 kg con uno spessore di 0,6 mm. Il sistema Similboa di chiusura veramente rapido e veloce. Nella parte anteriore vedete le due borracce e tre tasche molto capienti per tutti i vostri generi alimentari o elementi di prima necessità. Lateralmente due tasche dove potete mettere anche qua i vostri gel, la lampada frontale e nella parte posteriore tre ampie tasche. La chicca di questa tasca posteriore è quella di poter inserire facilmente senza togliere lo zaino la vostra giacchetta o il vostro terzo strato a maniche lunghe, quindi è facile da inserire e da estrarre con estrema facilità.